Sono le prime luci dell'alba quando le fiamme gialle entrano in azione. Fare puntati su una presunta frode fiscale di grandi dimensioni. Due arresti, 13 indagati, 21 perquisizioni, 8 società coinvolte tra Vicenza, Padova, Albignasego, Mestrino e Venezia. Misure cautelari nei confronti dei tre amministratori di una società che commercia pneumatici. Ordinanza di custodia in carcere per un 56enne di Montegalda. Arresti domiciliari per la compagna romena di 43 anni, obbligo di dimora a Sandrigo per un 58enne. Secondo gli investigatori, l'imprenditore di Montegalda, già arrestato e condannato per analoghe condotte fraudolente, durante il periodo di detenzione al Due Palazzi di Padova, sarebbe riuscito a riorganizzare la struttura operativa grazie anche a diverse teste di legno, formali amministratori di tre società utili a emettere fatture false. Ma c'è di più. Mentre appunto si trovava detenuto a Padova, quindi sempre a seguito della prima indagine per la quale era stato condannato, il vertice del suo delizio, quindi l'imprenditore, è riuscito ad ottenere la scarcerazione facendosi affidare i servizi sociali. In realtà indicando di prestare manutenzione appunto come piccolo manutentore presso un'associazione dilettantistica sportiva di rugby, grazie a delle false attestazioni che sono state rilasciate dal presidente e da uno degli allenatori di questa associazione dilettantistica di Vicenza. Mentre veniva riorganizzata la struttura, secondo gli investigatori sarebbero state anche svuotate altre due società utilizzate nella precedente frode fiscale, aggravandone la situazione con più di 40 milioni di debiti soltanto nei confronti dell'erario. Per questo è stato dichiarato il fallimento ed è scattata la denuncia per bancarotta fraudolenta. L'imprenditore, per la Guardia di Finanza, avrebbe agito coadiuvato dalla compagna e dal figlio, ma anche da un ragioniere 47enne di Albignasego, che non si sarebbe limitato a un contributo professionale, ma, secondo le fiamme gialle, avrebbe tenuto in vita il core business del suo dalizio, fornendo in prima persona gli strumenti giuridici per reiterare le presunte condotte criminose. Le indagini hanno permesso di ricostruire l'emissione di fatture per presunte operazioni inesistenti per più di 28 milioni di euro, con conseguente IVA e VASA per oltre 3 milioni di euro, consentendo così di vendere, anche online, gli pneumatici alla clientela finale a prezzi illecitamente concorrenziali. Abbiamo sequestrato numerose documentazioni e anche informatiche, adesso ci dedicheremo, sotto la direzione del pubblico ministero, all'analisi di tutto questo materiale. Grazie.